Una formazione professionale per i ragazzi del carcere minorile di Nisida, ma anche un'educazione alla legalità per reintegrarli nella società. Il progetto Laboratorio Edile è il frutto di un protocollo d'intesa siglato tra l'ACEN, l'INAIL e l'Istituto Penale per Minorenne di Nisida. Il progetto interviene concretamente sul problema della devianza minorile e sulla rieducazione dei ragazzi di Nisida. Io credo che questa sia una nuova esperienza che aiuta l'Istituto Penale per Minorenne di Nisida di mettersi in rete con le risorse positive della città. È una grande opportunità per i nostri ragazzi per acquisire nuove esperienze, nuove competenze, ma soprattutto per creare un tessuto che sia in grado di conoscere le competenze che i nostri ragazzi acquisiscono durante il periodo della detenzione per poi favorire un loro valido reinsedimento sociale. È un progetto a cui noi diamo un'importanza enorme, nel senso che ovviamente ha un impatto sociale rilevante, ma fondamentalmente a noi fa piacere essere concreti, cioè dare un supporto concreto e ringrazio molto l'INAIL che ha insieme a noi predisposto questo progetto. Noi diamo la possibilità a dei ragazzi che hanno avuto comunque delle vicende poco felici di potersi reinserire facendo un corso di formazione concreto di 225 ore di cui 200 ore pratiche per dare un'ulteriore possibilità a questi ragazzi che meritano assolutamente di avere una prospettiva futura. Noi vogliamo cercare di dare il nostro contributo al creare delle prospettive future per quanto riguarda questi ragazzi che si trovano in una condizione chiaramente di disagio, svantaggiati certamente, ma accanto a questo anche metterli in condizione di conoscere quali sono le regole del mondo del lavoro, che poi rispettare quelle regole del mondo del lavoro significa anche rispettare le regole del mondo civile. Quindi il duplice scopo da una parte è la sicurezza e dall'altra anche il rispetto delle regole, perché per noi è molto importante questo investimento.